bentornato gutler bentornata bene ora il momento di andare ad eseguire l'aggiornamento dopo aver creato il supporto di installazione in questa lezione ti spiego come procedere con l'aggiornamento a windows 10 al momento in cui crea questa lezione esistono vari possibili modi per aggiornare il tuo sistema operativo eccone alcuni in sequenza proviamo prima con l'aggiornamento da sys tray qualora avessi la notifica infatti come già accennato nella lezione 167 potresti avere in visione nella sys tray un'icona che ti allerta della disponibilità per aggiornare il tuo sistema operativo a windows 10 un'icona del genere cliccando su questa icona si presenta una finestra interfaccia che può essere diversa rispetto a quanto esposto ma di norma indica la possibilità di aggiornare il sistema operativo direttamente in questa fase clicca sul pulsante aggiorna ora automaticamente si avvierà il download del file che provvederà ad aggiornare il sistema operativo la durata del processo però come ben sai non è preventivabile può eseguire il download dalla pagina anche di windows update del pannello di controllo con una percentuale di incremento del download il file che andrai a scaricare può avere dimensioni variabili rispetto a quello che ti ho appena mostrato questo dipende dalla versione che dovrai scaricare e se eventualmente la microsoft ha introdotto aggiornamenti al file stesso dopo questa lezione al termine del download si avvierà la procedura per l'installazione in caso si presentino dovrai accettare le condizioni di licenza e quando ti verrà richiesto a consenti al riavvio del computer potrai decidere anche di ritardare l'aggiornamento programmandolo con data ed ora dalla schermata dedicata quindi potrà impostare una data e l'ora nel quale poter eseguire l'aggiornamento magari quando non sei impegnato nel computer confermerai l'ora oppure avvierai l'aggiornamento immediatamente d'ora in poi non potrai utilizzare il computer in quanto è appunto in azione il processo di aggiornamento si predisporrà la configurazione per l'aggiornamento e dopo un riavvio l'aggiornamento vero e proprio inizierà verranno copiati i file di windows installate le funzionalità e i driver delle periferiche ed infine la configurazione delle impostazioni potrai anche cambiare il nome di accesso al pc se non vorrai lasciare il precedente nella schermata successiva potrai scegliere le impostazioni del sistema operativo o personalizzate oppure quelle consigliate dalla microsoft io direi sempre meglio scegliere le impostazioni personalizzate per adattare il sistema operativo alla tua filosofia d'impiego nella schermata successiva potrai decidere se utilizzare l'assistente vocale chiamata cortana nel tuo sistema operativo oppure rimandare questo utilizzo subito dopo potrai scegliere le applicazioni che potrai utilizzare alcune altre schermate di presentazione ti porteranno alla pagina di benvenuto ed infine alla schermata del nuovo windows 10 qui rappresentata in questo screenshot altra possibilità di aggiornare il sistema operativo direttamente dal sito della microsoft una pagina dedicata ti permetterà di aggiornare il sistema operativo partendo da un link un bel pulsantone chiamato aggiorna ora ti invierà all'azione partendo dalla pagina della microsoft link che metterò nelle note dell'episodio cliccandoci sopra schiaricherai nel tuo pc un file eseguibile di pochi megabyte che ha per nome get windows 10 qui una rappresentazione delle caratteristiche delle proprietà dei dettagli a scaricamento ottenuto cliccaci sopra rapidamente due volte per avviare il processo di aggiornamento inizieranno le operazioni preliminari e si avvierà il download dopo un tempo variabile ed al termine del download partirà la verifica dello stesso in seguito verrà creato il supporto di installazione che in realtà è una cartella nella partizione del sistema operativo a cui questo processo attingerà per aggiornare il vecchio windows terminata la creazione un processo di pulizia rimuoverà i file scorie che avrà creato lo stesso processo e l'automatismo proseguirà preparando il computer verificando la disponibilità di eventuali aggiornamenti poi avverrà la verifica se il computer può supportare il nuovo sistema operativo ed infine il tuo successivo passo è accettare le condizioni di licenza naturalmente in quanto aggiornamento ora il processo verificherà che ci sia spazio sufficiente sulla partizione dove installato windows ora un passo fondamentale in questa schermata dovrà decidere se e cosa mantenere nel tuo pc puoi installare e mantenere file personali e le applicazioni oppure cambiare gli elementi da mantenere potrà infatti decidere se mantenere i file personali e le applicazioni mantenere solo file personali oppure non mantenere nulla e eseguire l'equivalente di una installazione pulita dopo che avrai scelto cliccando su avanti ti verrà mostrato un nuovo riepilogo delle scelte che avrai eseguito ora potrai cliccare semplicemente su installa per avviare finalmente il processo di installazione dell'aggiornamento noterai alcuni riavvii del computer a secondali e seguili ripercorrendo quanto spiegato per l'aggiornamento tramite la sys tray quindi verranno copiati i file di windows installate le funzionalità e di driver delle periferiche ed infine la configurazione delle impostazioni potresti trovare piccole differenze come la scelta di appartenenza del pc la richiesta di creazione di un accesso tramite l'account microsoft ma di norma si riallinerà a quanto spiegato in precedenza ultima possibilità che ti spiego aggiornamento da supporto supporto di installazione che avrai verosimilmente grado come nella lezione 168 tale supporto può essere impiegato per un'installazione pulita ma anche per aggiornare il tuo sistema operativo a windows 10 partendo dal vecchio windows 7 service pack 1 oppure windows 8.1 update al sistema operativo avviato come nei precedenti casi inserisci il dvd o la pendrive che al suo interno windows 10 inserisci l'appunto nel pc avvia il programma esplora file ed individua il contenuto o della pendrive o del dvd al cui interno troverai il file setup cliccaci sopra rapidamente due volte inizierà la procedura che ripercorrerà le fasi simili ai precedenti aggiornamenti potrebbero anche qui verificarsi lievi e possibili varianti come poter selezionare se ricercare aggiornamenti per il vecchio sistema operativo oppure rifiutarli prima di eseguire l'aggiornamento a windows 10 segui l'aggiornamento fino al desktop di windows 10 termino ricordandoti che tutte le impostazioni o scelte eseguite durante i processi mostrati possono essere modificate in seguito dalle sezioni interne del sistema operativo bene goodler eccoci in zona pratica se si presenta il logo della microsoft in basso a destra nella since tray ottieni windows cliccaci pure sopra dopo qualche secondo si aprirà questa schermata e potrai decidere se aggiornare a windows 10 clicca sul pulsante aggiorna ora per avviare il processo di aggiornamento potrai seguire il processo del download dal pannello di controllo tramite windows update naturalmente però avvie ragioni didattiche accorcerò questo tempo il download comunque avrà un tempo variabile in base alla potenza del tuo hardware e la banda di internet che possiederai al termine del download avverrà la preparazione per l'installazione di windows 10 ora è giunto il momento di leggere le condizioni d'uso e accettarle ora devi cliccare su riavvia per entrare nella fase finale dell'aggiornamento potrai anche decidere di aggiornare in seguito programmando l'aggiornamento stesso infatti avrai la possibilità di selezionare la data in cui effettuare l'aggiornamento e una fascia oraria magari quando non sei al pc con conferma l'ora e chiudi rimanderai oppure avvia immediatamente l'aggiornamento al ravvio avvenuto inizierà la configurazione dell'aggiornamento con un tempo variabile successivamente verranno copiati i file del sistema operativo verranno installate le funzionalità e i driver delle periferiche e la configurazione delle funzionalità in questa schermata potrai decidere di lasciare invariato il nome che avevi dato al computer oppure cambiarlo qui puoi personalizzare il tuo sistema operativo gestendo le impostazioni anziché scegliere quelle consigliate e rapide della microsoft io personalmente in questa specifica schermata disattivo tutte le impostazioni impostazioni che possono riguardare l'invio di dati alla microsoft oppure consentire che le applicazioni indagino per così dire sul mio agire oppure quelle relative all'individuazione del dispositivo in questo specifico esempio io disattivo anche queste impostazioni ma starà a te scegliere se mantenerle attive o personalizzarle in base alla tua condizione di uso infatti queste impostazioni sono del tutto soggettive che tra l'altro sono di puro esempio didattico in questa schermata potrai decidere se impiegare la funzionalità dell'assistente vocale cortana oppure rimandare in seguito questa scelta qui puoi scegliere le applicazioni predefinite che ti fornisce la microsoft oppure cliccando su avanti rimandare in seguito ad un certo punto otterrai la schermata di benvenuto che ti preallerterà che è quasi terminata l'installazione la notifica che il pc è stato aggiornato avverrà verso la fine dell'aggiornamento ci siamo quasi e dopo qualche secondo da questa schermata otterrai il desktop del nuovo windows 10 dal menu start potrai individuare anche il pulsante sistema che ti permetterà di visionare se effettivamente il sistema operativo è stato attivato cosa che avverrà in automatico tramite connessione ad internet e se hai un product key genuino bene ora vediamo come installare e quindi aggiornare il tuo sistema operativo windows 7 service pack 1 o 8.1 update a windows 10 partendo dal sito della microsoft una pagina dedicata con un link che metterò nelle note dell'episodio ti presenta dei pulsanti che ti permettono di gestire al meglio l'operazione cliccando sul pulsante aggiorna subito inizierà il download di un programma chiamato get windows scegli dove salvare magari sul desktop e avvia la procedura di download di questo piccolo programma quando è stato completato clicca su esegui oppure individualo sul desktop per avviarlo ecco qua il piccolo programma get windows 10 che sarà utilizzato per avviare la procedura di aggiornamento cliccandoci sopra due volte e avendo dato autorizzazione dal sistema operativo avvierà la procedura da prima noterai in visione il logo della microsoft quello di windows successivamente inizieranno le operazioni preliminari per il download del sistema operativo e subito dopo inizierà appunto il download di windows 10 come detto in precedenza questo tempo non è preventivabile in quanto dipende dalla tua banda e dalla potenza del tuo hardware al termine verrà verificato che il download sia corretto successivamente verrà avviata la procedura per la creazione del supporto di windows 10 che in questo caso si configura con la creazione di una cartella all'interno della partizione dove è attualmente installato il sistema operativo a cui attingerà il processo per avviare tale procedura subito dopo avverrà la pulizia delle eventuali scorie create da questo processo e dal termine inizierà l'installazione vera e propria il processo di installazione avrà i suoi tempi per preparare il sistema operativo una volta che la preparazione avrà raggiunto il 100% inizierà il download degli aggiornamenti che saranno utili al sistema operativo altre operazioni verranno eseguite in maniera del tutta autonoma e quando si presenteranno le condizioni di licenza potrai leggere e naturalmente accettarle se vorrai proseguire con l'installazione di windows 10 dopo aver accettato le condizioni di licenza verrà eseguita una verifica se il sistema è pronto per supportare l'installazione a windows 10 in seguito avrà verificato che ci sia spazio sufficiente nella partizione per installare appunto il sistema operativo e a questo punto una scelta importante perché potrai decidere se oltre all'installazione di windows 10 potrai e vorrai mantenere le impostazioni e le tue applicazioni in alternativa cliccando su cambia gli elementi da mantenere avrai la possibilità di scegliere in dettaglio cosa eseguire infatti potrai decidere se mantenere i file personali o le applicazioni mantenere solo i file personali oppure nulla quindi eseguire un'installazione completamente pulita a questo punto tornerai un attimo indietro per verificare alcune cose prima di riepilogarti le tue scelte ora qui il resoconto delle tue scelte se concordano con quanto hai selezionato potrai iniziare ad installare windows 10 cliccando appunto su installa si avvierà l'installazione del sistema operativo con un tempo anche qui non preventivabile al termine di questa fase si presenterà a te un primo riavvio verranno a questo punto copiati i file del sistema installate le funzionalità e i driver e le configurazioni delle impostazioni del sistema operativo in questa fase dovrai impostare dei parametri abbastanza semplici come il paese, la lingua, il layout di tastiera e il fuso orario dopodiché cliccando su avanti accederai alla nuova schermata schermata che è relativa alle impostazioni anche qui puoi decidere se utilizzare le impostazioni rapide oppure personalizzarle come meglio credi ricorda che queste operazioni è possibile anche gestirle in seguito giusto per rese conto potrai vedere le impostazioni personalizzate nella pagina dedicata e tramite dei cursori attivare o disattivare la singola opzione rapidamente senza perdere tempo in questa fase selezioniamo i cursori ed andiamo avanti dopodiché cliccando su avanti andrai alla successiva sezione anche qui altri cursori da poter selezionare cursori che in questo caso riguardano la connettività del tuo computer e l'invio o meno di dati alla Microsoft relativi alla diagnostica un'altra sezione dove poter eseguire alcune impostazioni tramite dei cursori come vedi un'ampia scelta di personalizzazione che come ricordo puoi anche cambiare in seguito dopo questa lunga lista una schermata di benvenuto ti proietta vicino all'accesso al desktop di Windows verranno anche eventualmente installati gli aggiornamenti se il sistema operativo ha un accesso ad internet potrai decidere se questo pc appartiene ad un'organizzazione oppure a te semplicemente come privato utente domestico nella schermata successiva avrai la possibilità di scegliere l'accesso al sistema operativo o creando un account Microsoft qualora non lo avessi oppure accedendo con dei parametri già presenti o in alternativa ignorare questo passaggio e accedere con un account locale con un account Microsoft avrai la possibilità di accedere a tutte le funzionalità del sistema operativo quindi se non lo avessi creene uno in questo momento oppure accedi senza account Microsoft potrai a questo punto dare il nome all'utente che utilizzerà il computer altre schermate di benvenuto e di notifica di eventuali informazioni ti porteranno poi all'accesso al desktop ed ecco a te il nuovo sistema operativo installato perfettamente nella tua macchina a questo punto tramite il menu start potrai verificare che il sistema operativo è completamente attivato cliccando sul pulsante sistema attendendo che si presenti la schermata relativa e visionando appunto che l'attivazione sia stata portata a termine per dovere di cronaca ti mostro la cartella che il file get Windows 10 andrà a creare cartella che sarà presente appunto nella partizione dove è installato il sistema operativo sotto naturalmente C dove troverai il setup che avvierà l'installazione di Windows 10 bene a questo punto non ci resta che vedere l'ultima possibile metodologia di installazione da supporto supporto che puoi aver creato in precedenza o come DVD o come unità USB una volta avviato il sistema operativo individua il DVD o la pendrive e all'interno troverai il file setup cliccaci sopra due volte ed acconsenti al controllo dell'account utente in questa fase verranno ripercorsi tutti i processi che già hai ben visto quindi una prima fase preparerà il sistema operativo e la macchina in questa schermata potrai decidere se scaricare ed installare gli aggiornamenti che è un'opzione consigliata oppure rimandare gli aggiornamenti cliccando sul pulsante non ora e successivamente cliccando su avanti verranno eseguite alcune operazioni verrà verificato se il sistema è pronto per l'installazione e nella schermata successiva avrai in visione le condizioni di licenza d'uso come in precedenza spiegato puoi leggerle e accettarle per l'installazione se il sistema è pronto per l'installazione nella schermata successiva avrai la possibilità di scegliere anche in questo caso cosa installare e cosa mantenere ecco in visione dopo la verifica dello spazio disponibile potrai scegliere cosa mantenere nel sistema operativo stessa operazione eseguita in precedenza mantenere i file personali alle applicazioni oppure mantenere solo i file personali oppure eseguire un'installazione completamente pulita cliccando sul pulsante niente e successivamente su avanti in questo caso possiamo scegliere di mantenere solo i file personali e avviamo la procedura di verifica se il sistema è pronto per l'installazione dopo aver verificato che lo spazio disponibile sul pc sia sufficiente il riepilogo verrà di nuovo mostrato per la scelta che hai appena eseguito e voilà di nuovo l'installazione di Windows sarà avviata a questo punto ci possiamo riagganciare alla procedura vista in precedenza e portare a termine così l'installazione di Windows 10 ed ecco a te il nuovo sistema operativo installato perfettamente nella tua macchina bene, nella prossima lezione ti spiegherò come eseguire l'installazione pulita di Windows 10 ora un forte saluto ciao a presto, da calo e dalla prossima ciao a presto